Le novità, ma sai, io sono sempre dell'idea che squadra che vince non si cambia, per cui le novità saranno poche, pochissime. Ci sarà qualcosa di nuovo, ma chiaramente, come tu ben sai, Simona, ci sarà la mia conferenza stampa, la nostra conferenza stampa di domenica in nove, proprio dallo studio mio, ormai storico, visto che quest'anno sarà l'anno, sarà la mia quattordicesima edizione di domenica, per cui 14 anni della mia vita, ma avrò modo durante la conferenza stampa del nove a parlare ampiamente e di raccontare tutto agli amici giornalisti, nel frattempo io devo fare un grandissimo in bocca al lupo a te, Simona, per questo tuo incarico non facile, non facile, ma sei brava e penso che te la caverai benissimo, per cui prima di tutto un in bocca al lupo a te e poi un saluto e un in bocca al lupo a tutti i miei colleghi. Grazie, Mara. Sono tanti collegati, alcuni di loro fanno parte del mio cuore e saluto anche gli altri che sono in sala. Ciao!